Io credo che il Ministro Salvini menta sapendo di mentire perché credo sappia che due giorni fa l'Unione Europea ha ufficialmente comunicato che se i bandi non vengono sbloccati si cominciano a perdere 300 degli 800 milioni che sono già stati stanziati. Credo che il Ministro Salvini sappia benissimo che se i bandi non partono e si va dopo le elezioni europee il rischio è che l'intero progetto possa essere messo in discussione e spostando nelle risorse ad altri paesi europei che hanno meno dubbi e meno esitazioni dei nostri. Io credo sia ora di cominciare anche a dire che coloro che continuano a dire che siamo solo di fronte a una tattica politica, che la Tau partirà, che bisogna avere fiducia in Salvini diventano corresponsabili di scelte che rischiano seriamente di mettere il Piemonte in un angolo. Io da parte mia ho già chiesto e farò un martedì delle comunicazioni in consiglio regionale per chiedere che si attivi una procedura al fine di consultare i piemontesi e far sentire qual è la loro vera voce.